Ciao a tutti ragazzi per voi in questo video, da un po' che non pubblico però fa nulla, cioè non c'è un motivo Domani l'oretta farà un anno e quindi ora lo andremo a creare assieme Cioè raga creiamo il personaggio Abbiamo ammaccato i personaggi, creiamo il personaggio Si può crescere Sì, è bellissimo ragazzi non chiedermi mi ha scurato un genocchio per sbaglio mi ha messo sta cosa per sbaglio mi ha messo più vado di levato l'oretta mi ha comprato dei vestiti te ne è assomiglia ci siamo a mattina ma è l'oretta possa aiutare fino a mattina è la terza volta che lo faccio e la mia testa va bene mi fai per prendere la nostra cosa dobbiamo prendere il credito le vestiti ragazzi stiamo lì troppo bella aspetta noi li sto comprando e vi ho detto e noi andiamo a fare un bel regalo immaginate e ve lo diremo ora visto c'è mattina 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 resta qua ve lo dirò dopo quando quando staremo a casa facciamo le prendiamo pure le vestiti leggeri perché raga domani fa compiando il 13 12 12 ci sono vabbè so farò così ma si lo siamo a male quindi raga fa caldo per lei e deve essere vestita leggera 40 se questo è un bel ascolato il suo vestito sopra di me ve lo prendo vediamo se a casa nostra a casa nostra questo è il suo collettino ok oggi c'è c'è perso oi 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 che lo mettiamo con il vestiti vestiti attorno a mettere a faremo a casa dell'era cosi mi ricorda si ricorda di sicuro mi ricorda di tempo di martina quando era piccola martina eh sto a parlare di martina non mi mi ricorda di martina che faceva la notte più 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 dell'attes chi è che non ce lo ricordo che mi ha lasciato proprio raga ora ve lo posso dire devo prendere un cane a floretta e ora notte e devo perdere spero e ne ho provato il latte ah 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 lo vuole con il latte su qua no su qua si posso sentire la dentro tu stai qua sotto del lato stai qua ok tu 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 giusto atto vai maglietta e piu piu finta di latte e poi a ma stira tosse 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 eh ragazzi è poco fisico scolastico eh c'è l'ottore di ritorno ok l'ottore di ritorno ci vediamo domani buon attimo si è provato per fare con questa cosa ma ragazzi c'è è normale guarda solo ti imbocca la bambina c'è la sua si chiama però anche l'ottore perchè ok vado per il compiuto di una letta lo devo andare a prendere il cane ma che cazzo fa i due vestiti di fuori ok ora mi lascio un babysitter 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 tu vieni scherzo non lascio l'oretta con persone che non si conoscono e ci resti scherzo non lasciamo qua quando mi hanno ok ok raga i cani io li avessi qua perchè c'è tantissimo che cosa faccio ora devo vedere i cani c'è un cane un due c'è guarda che bello eccoci arrivati dovevo segnare un cane mira ma sono tutti troppo carini sole amore che tu siete belli aspetta farvi vedere questo è molto carino si molto carino questo pure a quanto pare molto giovane quando ballo leggo mi sa che hanno un besetto lei queste sono le sue cose e questo è un po' cazzo tutti i cani ci porta tu tu sei bella venite per casa ok prima volta questa cosa è proprio per praticare sono le best ecco la stagione di che da questo cacchino qua uff 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 troppo felice raga mi piace molto la casa questa è la borsa in cui ci metto in tecchionino troppo più questa cosa troppo il suo telefono guardate qua io ce l'ho fatto ok queste sono le sue ciotole pure la sedia guardate che bella casa e un castello aspetta ragazzi vediamo troppo perché ora mi è tutto a posto mi è piacquaro mi sono pure cambiata tanto a te perché è troppo bello vabbè ora andiamo a preparare il baglio sai c'è quasi la vera rumore rosa possibile guardate qua la pommo la borsetta questa è una cosa per lavarli la cosa perché se si deve dare è la borsetta ragazzi troppo più ok cosa c'è i biscottini cioè è cibo guardia è griale mi piace pure ok qua ci mettono le foto invece lo abbiamo per i bambini ce l'abbiamo anche per il cane ovviamente il cane ce lo mettiamo qua qua ci sono molto belle foto divertenti le crocchette cibi vestiti ragazzi guardate che mi stanno sono tanti e infatti la camerettina adesso ho formato ora corvo a me ragazzi lo metto a fare vestiti ragazzi ragazzi toccare perché dove siamo ora la riccipesa per carabinella per carabinella per carabinella stavo pezzemocchieri e dai così non è più piccolina non è più piccolina dove sta io sono ragazzi sono c'è ok da cosa mi si è persa pagare ah è che troppo piccolina di che sta fa nulla già stanno raccando se stanno stavite questo è cute però la mia famiglia non c'è le voglio mettere in vestita quel primo giorno è sempre il cappello sono ah mi sto per fare il baglio cute però voglio come agita troppo ragazzi troppo qua se devo fare baghetto io non posso fare cioè posso fare un bambino è tutto per lei aspettate casino qua è un casino vedetele questo bel cassetto aspettatela metto qua il cassetto metto qualcosa come le fate metto qua il cassetto cosa ah è bella idea cosa per fare il baglio diso accessori cute che c'è che c'è qua che c'è pure il giubbotto ok raga fatto ma no 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 ma che questo è questo pure il collare posso lo mettere in collare ci metto quello rosa è festina rosa ho fatto questo questo fuori ci vediamo troppo ma che ho fatto io non ho la cagliere questa volta ho fatto nel posto sono tutti toiti è troppo cute ah no 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 ho fatto per darlo concipo giù cosa è una buona volta sarà una buona borsa per il cane cioè che sì anche se questo non è però che quindi è che non è il cibo sono rotto